E riteniamo anche giusto, corretto dire che se oggi finalmente sul prodotto che portiamo sulle tavole ai nostri cittadini c'è finalmente nome, cognome, indirizzo di chi lo ha prodotto, riusciamo finalmente a dare un po' di trasparenza, di genuinità e di correttezza nelle informazioni dei prodotti che andiamo a consumare, è sicuramente merito del valore della Lega Nord, del gruppo della Lega, ma è soprattutto grazie al nostro Ministro Centinaio che è riuscito a valorizzare finalmente questo emendamento che poi è stato votato, devo dire, a larga maggioranza al Senato e poi anche alla Camera. Quindi grazie al Ministro Centinaio, non lo dico perché il Ministro è qua, ma perché finalmente è riuscito a concretizzare questo grande lavoro di cui l'agricoltura italiana aveva assolutamente bisogno. È giusto ricordare anche tutto il lavoro negativo che è stato fatto dai precedenti governi, perché se prima nelle nostre tavole arrivava il prodotto italiano, ma poi quando aprivamo la scatola del prodotto italiano che era stato fatto in Italia, parlo della scatola, lo aprivamo e dentro ci trovavamo il pomodorino con gli occhi a mandorla, quindi il pomodorino cinese. Oggi su quella stessa scatola ci sarà scritto prodotto in Italia per quanto riguarda la confezione, ma sapremo anche che il pomodoro arriva dalla Cina. E finalmente il consumatore italiano potrà decidere se comprarsi il pomodoro di Pachino, confezionato da qualche parte in Italia ma prodotto a Pachino, oppure prendersi il pomodoro cinese confezionato in Italia, ma sappiamo che dentro c'è il pomodoro cinese. E questo grazie al grande lavoro della Lega, del gruppo del Senato. Tutto il gruppo del Senato oggi è presente in minima parte perché stiamo nel frattempo impegnati nelle votazioni, così anche i nostri colleghi della Camera che si scusano. Noi però approfittiamo di questa occasione per ribadire questi concetti. Finalmente sulle tavole prodotto italiano, tutto questo direi in grandissima parte grazie al lavoro del Ministero dell'Agricoltura che è riuscito a segnare questo gol. Un gol che chiaramente ci fa permettere di vincere la partita della tasparenza a favore dei nostri consumatori. Quindi adesso passo la parola al Ministro Centinaio che chiaramente è l'artefice principale di questo successo.